Per quanto riguarda il sorteggio ha vinto gioia, mentre rabbia e paura, paura sta sopra rabbia proprio di un voto, comunque voi continuate a scrivere nei commenti chi vorreste per la prossima recensione di Inside Out, fra rabbia e paura, ancora ancora, non lo so, cambia qualcosa, magari vince rabbia oppure vince paura, comunque voi continuate a votare qua sotto in questo video, non in altri perché poi mi confondo, capite. Ieri ho visto il film Inside Out ed è bellissimo, anche sui giornali hanno scritto che è uno dei più bei film mai realizzati della Disney e hanno ragione, quindi se ancora non l'avete visto e siete curiosi andatelo a guardare perché è fantastico. Comunque, iniziamo subito con la recensione della scatola, andiamo velocemente, i saluti saranno alla fine, come al solito. Allora, come possiamo notare la scatola è sempre di questo brù luccicante, lucente, e c'è tre più, quindi che dai tre anni in su si può giocare, e poi Disney Store, visto che appunto è un'esclusiva del Disney Store. Sotto ci mostra, ci dice anzi, Disney Pixar Inside Out, Deluxe Talking Joy, perché appunto questa è la versione che si illumina la faccia. Non so se ne abbiano fatte altre dove parlano e si illumina la faccia, oppure normali di questa dimensione che non fanno niente, cioè che sono bendable però non parlano, si illumina la faccia, eccetera. Ma se voi lo sapete scrivetemelo qua sotto. E poi c'è un bellissimo artwork di gioia, ovviamente è sempre felice. Ovviamente nella plastica c'è questo buco per provare la bambola. Ok, e ovviamente per sentire meglio ci sono questi buchi qui. Da questo lato c'è Disney Pixar Inside Out, e lo stesso artwork di gioia. Bene, dietro ci mostra i quattro personaggi, e il personaggio appunto preso in grande che è Gioia, e ci dice che ha la sua sfera dei ricordi dove noi possiamo mettere una nostra immagine, io invece metterò quella di Gioia che arriva. Poi dice che si illumina la faccia, e ci dice che, insomma, parla, e può dire sette frasi. E sono abbastanza poche rispetto a dieci, undici, e rabbia addirittura a tredici. Qua ci mostra tutti i personaggi che sono paura, rabbia, disgusto, tristezza e gioia. A questo punto stiamo a Gioia, abbiamo già recensito Disgusto e Tristezza. Ovviamente costa 20,90, e potete acquistarlo sia al Disney Store che sul sito del Disney Store. Bene, apriamola, aiuto, già, buona fortuna a me. Bene, ecco Gioia, adesso sentiremo le sue frasi. Allora, tutti, iniziamo, abbiamo un buon giorno, che diventa una buona settimana, che diventa una buona settimana, che diventa una buona vita, che diventa una buona vita! Oh, questo è il mio preferito! Oh, no, 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 questo è il mio preferito! That's what I'm talking about! Woo, another perfect day! Nice job, everybody! Let's get those memories down the long term! Come on, group hugs! Well, I have to practice, and I don't think of it as playing so much as hugging! Joy! Yes, Joy! You'll be in charge of the console, keeping Riley happy all day long. And me and I love your dress, it's adorable. Oh, this whole thing? Thank you so much. I love the way you from... Oh, hello, I'm Joy! Bene, avevo spent tutte le luci così per farvi sentire bene, per farvi sentire le sette frasi e anche per mostrarvi come si illumina la faccia. Bene, allora, questa è la sfera dei ricordi dove io ho messo la sua immaginetta. E devo dire che in mano le sta abbastanza bene, cioè non cade, però poi, essendo troppo pesante, in pratica immaginiamo sta così e poi cade. Quindi penso che gliela aterrò semplicemente accanto. Bene, iniziamo con la recensione. Come possiamo notare, Joy è tutta gialla, tutto il corpo è giallo. E i suoi occhi, adesso ho un po' di capelli, e i suoi occhi sono blu sul celeste, con anche questo cerchio dorato. Quindi è un po' sul blu e anche però sul giallo. Diciamo che i suoi occhi sono un misto. Allora, mi piace anche molto che siano enormi. Io amo le persone che hanno degli occhi onore, perché mi sembrano un po' più tenere, non lo so. Anche un po' di ombretto rosa, o anche semplicemente per fare l'effetto, non lo so. Comunque a me sembra un ombretto. Poi ha le sue sopracciglia, che sono sottilissime e tutte brillantinate. Poi ha la sua bocca, e anche questa si illumina, che è semplicemente aperta e anche infossata, proprio. Cioè, che tu potresti metterci qualcosa. Per esempio, un gancetto che usano, sapete, questi qua della Disney. Vedete, è infossata. I suoi capelli, in questo momento, non sono proprio il massimo della vita, insomma. Sono appena usciti dalla scatola, magari un po' qualche aggiustatina dovrebbero ritornare normali. Inoltre, se li si appiattiscono alla testa, assomiglia ancora di più a Joy. Infatti, sono un po' troppo, diciamo, alzati. Se fossero attaccati proprio così alla testa, sembrerebbe proprio Joy. Ma già così li assomiglia molto. Ovviamente il suo sciuffetto è i capelli blu, pieni di tinsel, con il ciuffo. Per quanto riguarda il vestito, è tutto di questo giallo, un po' più chiaro. Anche se nel cartone è un po' più sul verde, ma anche qui li assomiglia molto. E ha queste decorazioni bianche e blu. Vedete, come dei fuochi d'artificio. E sono tutte brillantinate. Come potete notare non ha le scarpe, quindi dai, andiamo scalze, magari anche in luoghi sporchi. Andiamo scalze. Non so quante volte oggi, durante il The Box, e anche mentre aggiustavo qualcosina, avrò premuto per sbaglio la mano. Però davvero, sono stufa di sentire le frasi. Non ne ho mai sentito tantissime frasi così, una dopo l'altra. Mamma mia! Comunque, ovviamente, Joy è ben da bolla alla testa. Vedete? Io vado piano, ovviamente. Alla spalla. Al gobito, insomma. Più o meno. Ecco così. E ha un solo polso, perché l'altro, appunto, serve per parlare. E poi è bendable all'anca. Vedete? Ha anche le montande. Sembra più un pallolino, diciamo. E io pensavo che fosse bendable anche al ginocchio, ma insomma, è carina così. Bene! E adesso passiamo ai saluti. La sfera deve rimanere lì, per favore. Allora, oggi voglio salutare Faba Sud 1 Sara Caffarelli Sara Gioacchini Sara Guida Nicoletta Dubeica mi sa, non so se si pronuncia così Vittoria Musella MLP Hillary Channel The Minecraft Girl Yolanda Vitale Friend Kawai E infine voglio salutare anche una mia amica di scuola Che si chiama Ilaria Quindi, ciao Ilaria Bene, insomma, spero che questo video vi sia piaciuto Vi raccomando, continuate a votare Fra rabbia e paura, ancora non è finito E insomma, io vi consiglio questa gioia È bellissima, non costa neanche tanto Perché è fatta bene I vestiti sono tutti cuciti Inoltre ho scoperto che si può spegnere Da dietro Quindi se non volete consumare le batterie Insomma Potete spegnerla E questa è una buona cosa Bene, insomma Noi ci vediamo al prossimo video Ve la consiglio E niente Ciao Ciao